6 giovani professionisti che hanno saputo trovare la strada giusta per realizzarsi ed esprimersi con soddisfazione nel mondo del lavoro sono intervenuti portando la loro testimonianza all'incontro organizzato dall'Associazione Giovani Cooperatori al World Camp di Terzo Lass Per scoprire come la loro esperienza può aiutare quanti stanno ancora cercando la propria strada, conosciamoli meglio Lavoro in una cooperativa sociale dal 3 gennaio 2006, mi ricordo perfettamente la data perché per me è stata una scelta di vita Vengo da Ledro, una piccola valle sopra Riva del Garda, ho 29 anni e da quest'anno sono titolare di un'azienda agricola Io ho una laurea in fisica che non ha un albo, è più legata al mondo dell'università Invece no, sono arrivato in CET tramite una fortuna, tramite uno spin off, una cosa molto moderna, molto innovatrice da parte della fondazione Bruno Kessler Dopo la laurea in economia con i miei fratelli che già lavoravano in proprio assieme al mio padre abbiamo preso tutta l'azienda in mano nostra e siamo un'azienda che aderisce al progetto dell'economia di comunione Sono una giornalista e sono socia della cooperativa Mercurio, sono direttore al momento di Samba Radio e la web radio degli universitari di Trento Sono amministratore unico della cooperativa Mercurio e mi occupo all'interno della cooperativa di seguire tutti i progetti che partono La particolarità della mia storia lavorativa è il punto di partenza Io ho fatto come scuola superiore il liceo socio-psicopedagogico per poi cambiare e andare a fare l'università ho scelto giurisprudenza Dopodiché nel corso della laurea specialistica ho cominciato a maturare questa forte passione, quasi un richiamo verso la natura Il percorso per arrivare a fare questo lavoro è stato molto lungo e non sempre semplice, ho iniziato durante l'università Poi ho proseguito facendo anche diverse esperienze, quindi un po' di scrittura, di articoli ma anche radio e televisione La radio, devo dire, mi è rimasta sempre nel cuore e quindi proprio da questa passione è nata anche l'idea di fondare una radio per gli studenti Insieme ad altri amici, altri studenti che frequentavano con me l'università e che ho conosciuto strada facendo Ho imparato molto senza avere per questo prima voluto fare esattamente quello che sto facendo In che vuol dire che ho imparato mentre lo facevo, come già ricordavo prima, ma soprattutto sto imparando tuttora A fare un lavoro manageriale che di solito si impara in scuole o in master o in altri tipi di ambienti La mia storia lavorativa la vedo particolare per un po' anche per come è partita Nel senso proprio questa conoscenza graduale della cooperazione E un po' l'importanza del viverla fin dall'inizio proprio a pieno livello personale Proprio come una passione che è nata proprio dal mio essere proprio come persona E quindi ritrovarmi anche nella vita, insomma, a seguire gli stessi principi che poi ho ritrovato anche nel lavoro Il contributo che vorrei portare, desidererei portare a questo World Camp Sta proprio nel voler dare tanta importanza ai rapporti che si creano tra persone E quindi tra persone che non si conoscono, tra persone di culture diverse Che vedo sono presenti anche qua a questo World Camp L'importanza appunto di collaborare, di mettersi in gioco a 360 gradi Perché come giovani abbiamo tante opportunità Sulla base della mia esperienza posso dire ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro Che c'è la necessità attualmente di essere preparati Sicuramente di avere una preparazione che non è solo quella universitaria Ma anche successiva, cioè quindi di fare anche dei corsi di formazione successivi E poi ritengo che adesso la cosa migliore sia quella non tanto di un curriculum studi importante Ma quello di essere disponibili, di essere flessibili E di poter, di essere consapevoli che il mondo del lavoro è cambiato rispetto a quello dei nostri genitori E quindi c'è la necessità di impegnarsi maggiormente E soprattutto essere molto più flessibili E pensare che il lavoro che faccio oggi, magari domani, non sarà più lo stesso Ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro Darei il consiglio di non intraprendere una sola strada Ma di lasciarsi aperte più possibilità E di mettere proprio a frutto competenze diverse Che possono essere utili su più aspetti L'iniziare un percorso a livello scolastico Non vuol dire necessariamente seguirlo anche a livello lavorativo Nel senso che si può sempre cambiare idea E trovare uno spazio diverso, insomma, da quello iniziato Mi sento di dire ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro Di non credere una volta che si sono laureati O che hanno fatto il master, il doc, il postdoc Di non credere di essere arrivati O di conoscere quello che effettivamente accade O quello che accadrà nel mondo del lavoro La formazione continua è la base dei nostri anni Il consiglio che darei a chi si avvicina al mondo del lavoro oggi È quello di essere molto flessibili Soprattutto a livello mentale Quindi essere aperti a tante esperienze diverse E da tutte queste poi trovare spunti E anche la convinzione di capire cosa realmente si vuole fare In modo poi da concentrare tutte le energie Magari in un progetto Il contributo che voglio portare a questo World Camp È un contributo più che altro emotivo Nel senso che ad un giovane mi sento di dire Segui la tua passione Cerca comunque di realizzare i tuoi obiettivi Perché ognuno ha una strada Ognuno sente quello che deve fare E anche se è difficile bisogna provarci E il coraggio non deve mancare